Siamo entusiasti di annunciare che si è appena concluso il corso Venirson Refract B.O.P.T. Approach con il maestro Michele Oreffice che si è tenuto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. È stato un fine settimana incredibile e ricco di apprendimento. Un ringraziamento speciale va al nostro opinion leader, il maestro Michele Oreffice, per la condivisione delle sue conoscenze e tecniche di lavoro con la ceramica Artoralli. Vogliamo inoltre ringraziare di cuore tutti i partecipanti del corso per la loro dedizione e passione per l'apprendimento.